Ciao a tutti, ciao a tutti, vediamo, vediamo in questo video verità che tutti gli uomini devono accettare. Prima di affrontare il tema, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi su tutti i miei social e ti ricordo che se vuoi fare una piccola donazione al canale, anche su un caffè ben accetto, basta che vai sotto il video e clicchi sul tastino, super grazie, se vuoi invece usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai in un page e clicchi sul tastino abbonati e poi selezioni l'abbonamento che preferisci e veniamo al tema, il tema è verità che tutti gli uomini devono accettare. Allora, quali sono le verità nella seduzione che tutti gli uomini devono accettare? Intanto la prima cosa è che, come dire, devi toglierti dai piedi tutte le donne che sono sfruttatrici, è inutile stare a cercare di trasformarle, cambiarle, migliorarle, ci sono donne che sono arrampicatrici sociali che vogliono tutti i costi sfruttare di uomini e questa tipologia devi scartarla, perché è inutile che stai a perdere tempo con donne che di fatto non ti potranno mai dare nulla. Questo è un punto fondamentale, devi assolutamente cercare di essere coerente, e come ci sono situazioni che non ti porteranno mai nulla di buono, le arrampicatrici sociali, quelle che vanno alla ricerca di, come dire, uomini da spolpare, tra virgolette, che si scroccano, vogliono far soffrire questo, vogliono far soffrire quello, è assolutamente sbagliato portare avanti, cercare di sedurle, cercare di conquistarle, è molto meglio guardare oltre. Questa è una verità, non tutte le donne meritano le nostre attenzioni, questo devi tenerlo presente. Poi, ovviamente per ottenere, per sedurre, serve comunque motivazione, devi essere motivato e devi dare valore a te stesso, non puoi raggiungere niente se non hai la giusta motivazione. Le cose fatte senza motivazione non portano nessun risultato. Quindi la motivazione alla seduzione è sicuramente la motivazione al miglioramento di se stessa, il miglioramento delle proprie capacità comunicative. Come tutte le cose, anche la seduzione necessita di motivazione. Quindi la motivazione al cambiamento, al miglioramento, al diventare un uomo migliore, capace di conquistare, può essere una grande motivazione, ma ci devi credere e non devi mollare mai. Non mollare nel senso di aggrapparti a una donna, perché se con una donna non funziona, tu non è che devi mollare, smettere la seduzione. Ma ci sta che con qualcuno non può funzionare, funzionerà con qualcun altro. Ci sono delle situazioni, delle persone malsane in cui è meglio non investire il proprio tempo. Questo è evidente, come dicevo prima, ad esempio le rampicatrici sociali, ma anche altre. e quindi è molto importante perseverare, ma sull'obiettivo, non sulla persona. Questo lo dico sempre, cioè le persone sono degli strumenti per raggiungere il nostro obiettivo, ma se una persona non va bene, dobbiamo cambiare persona, non obiettivo. Cioè, se una persona vuole, che ne so, vivere l'amore, non è che se Francesca non gli dà l'amore, eh, amen, non lo vivrà mai. No, lo vivrà con un'altra. E quindi questo è, ma non bisogna mollare mai, nel senso di raggiungere il nostro obiettivo. Questa è un'altra verità, che è da tenere presente, perché spesso noi ci concentriamo sulle persone e ci accaniamo, quello non va bene. Altra verità fondamentale è che comunque, in linea di principio, nel 90% dei casi, anche il 99% può essere, alle donne piacciono gli uomini sicuri, gli uomini che siano sicuri di sé, che trasudino sicurezza, che trasudino una personalità forte. Il cosiddetto maschio alfa, diciamo, poi alla fine, che nel gruppo è quello dominante. Le caratteristiche del maschio alfa sono, e se voi fate identificare come il maschio alfa, un uomo che è riferimento per altri uomini, spesso leader di altri uomini, e che piace a tante donne. Quindi, se vuoi essere percepito da una donna come il maschio alfa, devi imparare a diventare leader di altri uomini, diventare un riferimento, quindi sviluppare anche qua autostima è fondamentale, e poi interagire nel modo migliore con tante donne, in modo tale che ci siano tante donne a cui piace. Perché se piace a tante donne, piacerai anche a quella che poi interessa a te. Proprio per questo meccanismo è il meccanismo di preselezione. Un altro punto fondamentale è che, diciamo, non devi pensare di dover essere perfetto, perché nessuno è perfetto, tutti possono migliorare, e quindi alle donne piacciono sicuramente gli uomini sicuri, ma l'uomo perfetto non esiste, quindi è inutile che cerchi di diventare superman. ognuno di noi ha i suoi difetti, deve anche essere in grado di accettarli, no? Cioè se, su un esempio fisico, così è più semplice a capire, se sei alto un metro e settanta, non sei alto un metro e novanta, e quindi c'è poco da fare. Ah, poi ci sono quelli che fingono, mettono le scarpe imbottite, lì con il suole finte per salire, per diventare più alti. Ma bene, uno può fare quello che vuole, però, diciamo, sarebbe molto meglio prendere atto della realtà, e non è che perché sei un metro e settanta, un metro e sessanta, o quello che sei, poi non avrai successo. Pensate a Napoleone, Napoleone non è che fosse uno stangone, ma tornando ai giorni nostri, Tom Cruise, credo che non raggiunga forse neanche il metro e settanta, quindi è anche lui, è un personaggio di successo, quindi non è che si misure con l'altezza o con la lunghezza di altre cose il successo di un uomo, assolutamente no. Quindi, nessuno è perfetto, ma tutti possiamo migliorare, possiamo migliorare il nostro fisico, possiamo puntare a diventare persone migliori. E l'impegno è fondamentale, nella seduzione come in tutte le altre cose nella vita. Altra cosa fondamentale è la percezione che hai di te stesso, è un'altra verità questa, se ti percepisci brutto, sarai brutto, se ti percepisci bello, tenderai comunque a migliorarti, perché ti focalizzerai sulle cose migliori. Quindi questo è un altro punto molto importante. Ci sono uomini che magari possono essere anche brutti, poi a parte che è un carattere soggettivo, eppure, diciamo, sono amati dalle donne, perché hanno personalità, hanno fascino, hanno, diciamo, capacità comunicative. Quindi sviluppa queste tue skills. Ognuno di noi ha dei suoi punti deboli, dei suoi punti di forza. Si tratta di cercare di migliorare i punti deboli e di sapere utilizzare al meglio i punti di forza nella seduzione. Queste cose qua, prenderne atto, devi accettarle, e questo ti impedirà di diventare un grande seduttore capace di conquistare tantissime donne. Per adesso metti un like, iscriviti al canale e ti ricordo che se vuoi fare una piccola donazione basta cavare sotto il video e clicchi sul tastino. Super grazie! Mi raccomando, il like mettilo perché fa girare il video su YouTube. Da un suggerimento all'algoritmo YouTube, non ti costa niente mettere un like. E se vuoi fare una donazione, te l'ho detto, se vuoi iscriviti al canale, ovviamente attiva anche la campanella e se vuoi abbonarti basta che vai in home page e clicchi sul tastino, abbonati che sta vicino al tastino, iscriviti!